8 luglio. Io sono l'Eterno, l'Idio vostro, che vi ho tratto dal paese d'Egitto affinché non vi foste più schiavi. Ho spezzato il vostro gioco e vi ho fatto camminare a testa alta. Levitico 26, 13. Liberi dal peccato. Dio ci ha liberati dal peccato, ci ha riconciliati a Lui tramite il sacrificio di Cristo Gesù e grazie a quella morte possiamo accostarci al trono della grazia ed essere ascoltati. Essere liberi dal peccato non vuol dire che non pecchiamo più, ma che possiamo rivolgerci a Dio in Cristo per ottenere misericordia e perdono dei peccati. La nostra natura tende al peccato e durante questa vita possiamo commettere errori, sbagli, peccati contro Dio. Tutto quello che facciamo di male e di sbagliato è un peccato nei confronti del Signore. Accostiamoci ogni giorno fiduciosi al trono della sua grazia e confessiamo ogni peccato. Egli continuerà a lavarci col prezioso sangue di Cristo Gesù. Stiamo vicini al Signore. Riconosciamolo come nostro Salvatore e Signore. Ubbidiamo a Lui e alla Sua parola. Solo così saremo veramente liberi dal peccato e il sacrificio di Cristo non sarà stato vano per noi.